I have a wonderful electronic invention, I want you to see, it looks something like you. La sempre affascinante Anghiari ospita la terrazza Busatti della nota azienda artigiana di tessuti con Livio Sassolini. Abbiamo saputo che pochi giorni fa avete ricevuto la visita del Presidente Nazionale di CNA, Livio Sassolini, e il Presidente di CNA Valtiberina. Però una visita importante, un riconoscimento importante per voi? Sì, sicuramente ha fatto assolutamente piacere. Il nostro Presidente Nazionale di CNA, Dario Costantini, è venuto per fare un tour in tutta la nostra provincia, però gli ha fatto piacere molto soffermarsi un'intera mattinata qua nella Valtiberina, nello specifico è venuto anche qui in azienda da noi a Anghiari. E' stato un momento conviviale, a me anche personalmente è molto simpatico, perché una persona che vede sì una visione globale come un Presidente Nazionale deve fare, ma è anche verticale sui temi. Quindi è stata la possibilità per un confronto sui contenuti, del mondo artigiano, della piccola media imprenditoria, e delle luci e delle ombre che ovviamente illuminano e affliggono la nostra Valtiberina. Ecco, una Valtiberina che è ricca, soprattutto a Anghiari. Pensiamo alla Mostra dell'Artigianato, che è una delle prime addirittura in Italia. Il vostro settore è importante e conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Quali sono le luci e le ombre? Dell'ambito del nostro territorio diciamo che le risorse e la vitalità delle nostre imprese è sotto gli occhi di tutti. C'è una grossa capacità che si riesce a rispondere sempre, anche quando le difficoltà sono presenti e arrivano. Ma al contempo le ombre sono dettate sia da una problematica che possiamo vedere nell'ambito della viabilità, che nel territorio della Valtiberina è sempre un aspetto critico, allo stesso tempo spesso opere pubbliche che si allungano un pochino a dismisura i tempi per l'ultimazione e anche una visione a livello globale e internazionale che ovviamente è suscettibile di aspetti diversi ma che comunque è sicuramente molto incerta e anche che è legato al mondo dell'export adesso è un po' preoccupato, cosa che prima non avveniva, perché c'è sempre la preoccupazione che questi mercati internazionali possano subire dei contraccolpi dovute alle crisi che sono un po' in tutto il mondo. Negli anni soprattutto passati, nei decenni soprattutto passati, Anghiari si distingueva per i tanti settori dell'artigianato anche per il legno, la lavorazione. Adesso come sta andando il problema soprattutto dei giovani che dovrebbero affacciarsi a queste realtà economiche, a questi lavori artistici, anche il vostro in pratica lo è? Sì, il tema del lavoro giovanile è un tema che comunque è affrontato da tutti in questo momento. Noi di CNA vediamo soprattutto quello che viene definito, diciamo lo affrontiamo dal punto di vista del mismatch, cioè quella situazione di disallineamento tra domanda e offerta. L'offerta del lavoro c'è ma non riesce ad allinearsi con la domanda che viene da parte dei giovani. Da cosa dipende? Secondo noi dipende da tanti aspetti, ma uno dei più rilevanti è sicuramente una visione diversa del mondo del lavoro che i giovani hanno, un concetto diverso anche del sacrificio che il lavoro richiede. Non pensiamo sia una cosa negativa o positiva, ma dobbiamo sicuramente aprire un tavolo con i giovani, un tavolo di confronto per capire quali valori l'offerta del lavoro, quindi le aziende e gli artigiani hanno e che possono condividere con i giovani e su quello lavorare. Io direi che su questo CNA sta già lavorando ampiamente da più di un anno, con una serie di incontri che si sono tenuti nei principali istituti superiori e medie di tutta la provincia di Arezzo, nella quale più che tavoli, lì si parla di banchi, ma si va tra i banchi, gli artigiani, gli imprenditori a ragionare direttamente con i ragazzi per capire qual è appunto il terreno comune, i valori condivisi e il percorso assieme che dovrà essere compiuto nei prossimi anni. Qual è il valore aggiunto dell'artigianato per l'economia nazionale? Ah beh, su questo non ci sono dubbi, con me sfondi una porta aperta, l'artigianato dona innanzitutto quella ricchezza non solo da un punto di vista finanziario, ma anche da un punto di vista estetico, umano che è imprescindibile. L'Italia di questo è ricca, non solo la Valtiberina, va tutelato, andrebbe secondo me anche tutelato con una legge ad hoc per dare la possibilità ai nostri maestri artigiani che sono davvero tanti, ma che purtroppo faticano a trovare una continuità anche perché è un lavoro che sicuramente deve essere svolto innanzitutto in prima persona, ha delle grosse difficoltà intese in senso anche finanziario purtroppo in questo momento e quindi sicuramente ci dovrebbe essere una maggiore attenzione perché perdere questo valore, che è quello che ha reso l'Italia grande, sarebbe sicuramente una perdita non solo per il mondo artigiano ma per tutta la nazione. Per concludere, tanto è l'argomento sempre più importante alla fine, un appello ancora ai giovani per avvicinarsi a questo mondo che è fatto di soddisfazioni non solo economiche ma anche personali. Sì, assolutamente, io direi più che altro di tendersi entrambi la mano, fare entrambi un tratto del ponte dal punto di vista imprenditoriale e soprattutto artigianale, comprendere le vicissitudini che i giovani stanno vivendo in questo momento, è un momento di transizione, il mondo sta cambiando nuovamente, le nuove generazioni sono sicuramente animate da poca esperienza ma tanto entusiasmo, hanno solo dei percorsi diversi rispetto a quelli che abbiamo seguito, mi ci metto anch'io con la vecchia generazione, anche se ho 44 anni, ma sicuramente possono apportare quelle idee nuove, quella freschezza di cui anche l'artigianato può avere bisogno.